Allora, abbiamo un giocatore che si chiama... Buongiorno a tutti, mi chiamo Gioffo Sfacile, gioco nel Bologna, spero che sia anche a tutti tifosi del Bologna. E niente, per me è un gran piacere venire a provarvi, perché comunque la nostra speranza è questa di trovarvi sempre allo stadio, a darci una mano, perché voi e per noi c'è più importante, siete i nostri tifosi e insomma, senza di voi è duro. Siamo persone comunque fortunate, perché possiamo fare la nostra passione, possiamo fare il nostro mestiere, cioè il mio lavoro è la mia nasione. Però richiede comunque tanti sacrifici, fare le ricette, diciamo essere abbastanza serio, evitare di impiatare a letto tardi, mangiare bene, insomma è un mondo un po' particolare, però ne ritengo molto forte per fare questo mestiere. Tu hai delle specie di conto, sono più una o dei tipi di maggiore che comincia la partita? Diciamo che il paese è un po' di una scaramazzia, no l'Italia? Quando sono arrivato qua, si facendo due o tre cose, abituali, insomma dei ritmi, diciamo, quando tra le due cose le tieni per te, no? Non sono fissantissimo, però anche io ho le mie cose. che prendono due o meno. Si, come un po' di una? Ho trovato anche un gruppo di ragazzi, diciamo, noi i miei compagni mi hanno fatto subito sentire il mio angio e niente, comunque da quando sono in Italia sono stato bello, comunque sono stato, diciamo, sono stato bevissimo.